Benvenuti a tutti voi sul nostro canale Y2Case in Adventure, io sono Max e di nuovo sul canale parleremo di tecnologia. Mi sono accorto da tutte le domande che ci avete fatto sul nostro canale, sui video delle batterie, che non abbiamo mai parlato effettivamente di come siamo arrivati a scegliere il nostro impianto. Quindi in questa serie di nuovi video, che saranno, prometto, abbastanza brevi, quindi magari ne faccio qualcuno di più, ma li faccio più brevi, voglio raccontarvi come era la situazione all'inizio, ovvero come siamo partiti da questa situazione, quindi con alternatore vecchio, batterie vecchie, tutto in originale, e come ho deciso di passare alle batterie a litio e cosa cambiare o come configurare o cosa installare per lavorare al meglio. È una cosa che funziona perfettamente per le barche, per il camper e anche per chi lo vuole fare a casa. È vero che magari a casa non avrete l'alternatore, però sono delle configurazioni che possono essere ottime un po' per tutti. Siamo da poco tornati in barca, siamo alle figi per chi ci segue sul canale e vabbè sentirete in sottofondo purtroppo un rumore che è il ventilatore per cui fa veramente molto caldo e sto facendo questa cosa di pomeriggio, ma è veramente caldissimo e quindi ho bisogno di un po' d'aria, altrimenti comincio a squagliarmi davanti alla telecamera. Adesso voglio disegnare insieme a voi come era la nostra barca, che è un esercizio che veramente invito chiunque voglia intraprendere il mio stesso percorso a disegnare esattamente com'è l'impianto elettrico della propria barca, del proprio camper perché è importantissimo capire dove ti trovi in quel momento perché dopo quando andrai a modificare esattamente ogni singola cosa dovrai capire come sostituirla e cosa installare esattamente. Quindi con l'ausilio del tablet adesso proviamo a disegnare esattamente un po' tutto. Ok sulla nostra barca cosa avevamo? avevamo una batteria al piombo, in realtà erano più di una, quindi una batteria 12 volt, queste sono la batteria dei servizi, avevamo 540 ampere ora. Cosa avevamo ulteriormente? Avevamo, come abbiamo ancora adesso, una batteria motore, più piccolina chiaramente, questa è 12 volt sempre ed è da 110 ampere ora e la chiamiamo appunto motore e quella di avviamento. In più noi sulla nostra barca abbiamo anche un ulteriore banco batteria che è quello dell'elica di prua che sono 200 ampere ora, io dico elica, non tutti ce l'hanno ma vedrete più avanti che averla o non averla cambia ben poco. Tutte queste batterie sono collegate, fra loro e hanno determinate funzioni. Come le ricarichiamo? Questa è la prima domanda a quale dobbiamo cominciare a parlare. Abbiamo un alternatore, quindi dal motore noi carichiamo la batteria, l'alternatore magari lo disegniamo come un cerchio, io ho un alternatore a 12 volt 80 ampere. Cosa carico con questo alternatore? Io vado a caricare tutte e tre le batterie, a caricavo tutte e tre le batterie contemporaneamente. Quindi avevo una scatoletta che praticamente separava la carica che arrivava dall'alternatore, quindi l'alternatore andava a questa scatoletta e poi questa scatoletta caricava tutte e tre le batterie. E qui disegniamo. Era praticamente un isolatore con ripartizione di carica. Lui cosa faceva? Caricava praticamente tutte e tre le batterie allo stesso identico modo. Quindi arrivava corrente dall'alternatore e in base a quanto fossero scariche le batterie, mandava comunque la stessa identica potenza. Quindi se il mio alternatore dava 80 ampere, che non le avrebbe mai dati. Facciamo sintesi che di là da 89, tutte e tre batterie erano cariche, avrebbe dato ogni singola batteria circa 25 ampere. Poco più, poco meno. Quindi quando poi la batteria dell'elica di prua o la batteria del motore cominciavano a essere cariche, perché sono quasi sempre cariche, quasi tutta la carica che arrivava dall'alternatore sarebbe andata direttamente alla alla nostra batteria dei servizi. Cosa abbiamo ancora per caricare le nostre batterie? Io avevo anche un caricabatterie da 220 volt per quando siamo collegati a terra. Quindi 220 volt, cioè un caricabatterie da 80 ampere. Questo caricabatterie aveva tre uscite dedicate. Una per la batteria dei servizi, una per la batteria motore e una terza per la batteria dell'elica di prua. Nel tempo poi per caricare ancora la batteria dei servizi installai un impianto fotovoltaico, quindi con i suoi regolatori. Adesso è poco importante dire quanti ne avevo, poi lo analizziamo nel dettaglio quando parleremo del solo del solare. Quindi avevo un impianto solare che mi andava a caricare solamente la batteria dei servizi. Allo stesso modo avevo installato un impianto a vento, cioè che con un'elica caricava le batterie, quindi un wind generator, quindi quello che chiamiamo wind, sempre a 12 volt, che mi andava a caricare sempre e soltanto la batteria dei servizi. Abbiamo fatto sempre la scelta di caricare sempre e solamente le batterie dei servizi. In più, per complicare ancora la cosa, abbiamo installato pochi anni fa, prima di partire, abbiamo installato anche un caricatore ad acqua, quindi un idrogeneratore. Questo non è altro che un piede che viene immerso con un'elica nel mare e quando navighiamo solo a vela c'è un'elica che gira trascinata dall'acqua e quindi crea energia. È difficile che l'abbia ovviamente sul camper. Disegnato in modo anche rozzo, come l'ho disegnato io, è estremamente importante, ci dà subito un colpo d'occhio per capire cosa abbiamo sulla nostra barca, sul nostro camper e riusciamo a capire anche esattamente cosa potrebbe servirci per il futuro. Diamo subito un'occhiata alle batterie perché è la cosa più importante. Noi qui abbiamo, nel mio caso, tre tipi di batterie diverse. Abbiamo detto la batteria dei servizi, la batteria del motore avviamento e la batteria delle ica di prua. Adesso quest'ultima tralasciamolo un secondo perché nella maggior parte dei casi non ci sarà. Come ho detto prima, non è una grande differenza averla o non averla. Nel momento in cui parleremo di come ho separato l'impianto per caricarla, affronteremo per chi è interessato solo questo argomento per il terzo banco batteria. Da ora in avanti andrò avanti soltanto per caricare due banchi batterie che è un po' diciamo il classico impianto di una barca di un camper. Nel mio caso i 540 ampere erano batterie AGM, che poi sono state cambiate anche batterie al gel, quindi comunque tecnologie diverse da quelle del litio. Questo perché lo voglio specificare? Perché ha un tipo di carica, ha un tipo di carica diverso da quello che sono le batterie al litio. Il motore era una tecnologia AGM. Entrambi quindi potevano essere caricate allo stesso identico modo, entrambi i banchi batterie. Passando ad avere batteria al litio, solo per quello che riguarda la batteria dei servizi, dobbiamo prestare un'attenzione diversa perché, l'abbiamo visto per chi mi ha seguito nei video precedenti quando è stato le batterie al litio, hanno una possibilità di ricarica decisamente diversa e lo affrontiamo in una prossima puntata per capire come selezionare il tipo di caricatore adatto alla batteria al litio. Quello che vorrei porre all'attenzione è, di questi 540 ampere che io usavo, che fosse AGM, che fosse gel o che fossero batteria al piombo, normalmente per dare, diciamo, per non sollecitare al massimo le batterie, si possono utilizzare fra il 30 e il 40%, che è già tanto, della capacità della batteria. Ciò significa che se fosse il 30%, 150, più o meno 150 ampere, io potevo, per ora, io potevo togliere da questa batteria. Se andavo a togliere molta più energia da questa batteria, la batteria si rovinava in modo molto più pesante. Adesso, nella prossima puntata, affronteremo come calcolare i consumi che abbiamo a bordo o che abbiamo sul nostro camper. È estremamente importante per capire come massimizzare al massimo la nostra nuova batteria, perché potremmo anche pensare di prendere una batteria più piccolina di quella che attualmente abbiamo, cioè il vero 500 ampere ora, visto che ne consumiamo probabilmente 150-200 al giorno, oppure prendere una più grande o uguale perché vogliamo utilizzare altre cose. Per esempio, nel mio caso, ho voluto utilizzare un inverter molto più grande per far funzionare delle attrezzature. Vedi la macchina per fare il pane, vedi la lavatrice, vedi la macchina per l'espresso. Ho voluto utilizzare altre cose, quindi mi sono tenuto abbastanza abbondante nel voler utilizzare il tutto, per voler utilizzare tutte queste cose che ho installato. Questa prima puntata è finita, spero vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciate un like, mi fa sempre molto piacere o lasciate qualcosa nei commenti. Ci vediamo alla prossima puntata, la numero 2, per il calcolo dei consumi di bordo.